oggi come potete vedere respiro bene ho incominciato a alzare la camicia non ho più l'orologio all'agnelli sopra il coso sopra la camicia quindi sono già più modernizzato e oggi vorrei parlarvi di una conferenza che ho visto le galassie sulle galassie fatta da un nostro trentino che mi ha dato grande soddisfazione al pensiero che fosse un ragazzo giovane di 39 anni e ricoprisse la cattedra di astrologia all'università di merbourne adesso dopo che il signor galas mi ha dato il suggerimento di merbourne perché non mi veniva allora lui me l'ha detto subito adesso ve faccio vedere ve li faccio vedere ecco telecamera eccola qua ecco il signor galas e quello che vedete là di fronte brutto come l'orco con le cuffie che quello che mi ha detto dimmi qua merbourne ecco merbourne quell'altro invece è il parisi spostate parisi perché non ti vede mette su 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 alzati alzati mettetevi insieme a quell'altro la vicino ecco quei due signori che vedete sono quei due che mi fermano ma te vedessi te vedi tutti non te sai come te sei apprezzato questo passo è tutto per coprire il buco perché se te ne guarda te capisci bene i capi e pieni di busi allora eccetera dopodiché adesso questi signori vi lasciano e io vi parlo delle galassie grazie della posa grazie adesso dopo che ho fatto questa operazione cinematografica veniamo alle galassie allora ad arco c'è il preside alberto trenti così si chiama con la moglie miarella che io conosco molto bene infermiera la quale ho dato incarichi speciali quando il sottoscritto sarà in partenza e hanno un figlio ma io credevo che il figlio fosse un studente bravo studente allora intanto quando incontro la mia regia come sta il figlio è a londra a e oxford a ma e cosa fa se sapesse fa degli studi sull'astronomia eccetera 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 poi il sottoscritto dice ma il figliolo è se sapesse sottoscritto dice è in australia o che però cosa fa la cattedra di astronomia dico giusto astronomia la porco di baco che roba astronomia niente poco di meno l'ha incontro un'altra volta si era sposato poi l'era dove suo figlio è a tokyo per sei mesi a tokyo ma adesso fa parte della comune una commissione che studia un speciale come se chiami quelli telescopio che ce n'è uno però un giorno leggo circolo della vela circolo culturale la panna che nulla a che fare con il circolo della vela e quello è il popinime parla allora parla ad arco sulle galassie sulle galassie ecco telecopio spaziale è quello di cui ci ha parlato questo trenti e ci ha detto anche che stanno facendo uno nuovo che si chiamerà abble o eible perché credo che ci sia un nuovo telescopio che adesso non so se le eibli quello che ci sarà o quello che c'è già quello che c'è già c'è un telescopio se vi interessa che non è sulla terra ma è in uno dei satelliti e quale vede molto di più di quello che vediamo noi ma la cosa che mi ha lasciato stupito uno che un ragazzo di trentanove anni di arco ricoprisse un posto del genere e questo mi ha fatto piacere siccome sui giornali non si legge ah non è stato drogati ah non è stato quell'altro che fuma a quell'altro nel remengo a quell'altro le di chi siccome si mettono in evidenza solamente le cose che non vanno quando ho visto questo ragazzo di trentanove anni ricoprivo che i posti e ci parlava delle galassie mi ha fatto piacere ma il mio piacere è andato via via com'è che mi ha creato preoccupazione perché quando ho incominciato a parlare che non si può proprio misurare in una certa maniera perché se si misura in una certa maniera non si riesce a poter fare i calcoli perché sono calcoli che vanno fuori da ogni possibilità numerica allora si parla di anni luce e ha dato tutta una spiegazione perché si è arrivati a calcolare anni luce e non numeri matematici ma gli anni luce uno dice un anno luce due anni luce ma quando uno comincia a parlarti di miliardi di anni luce non è forse che siccome amico io apparecchi acustici non sento bene allora la domanda quella che si parla di miliardi o milioni no no dottor di miliardi di anni luce e ha incominciato a dire io ero fermo alla galassia lattea sicuramente poi che non è un'altra che l'ha un altro nome ecco l'andrometra è cominciato a dire che insomma la galassia si sta avvicinando la lattea si sta avvicinando all'andrometra che un giorno o l'altro si incontrerà e vennerà fuori un gran polvero per sfortuna noi non ci saremo ma siamo un altepala delle galassie e poi comincia a dire e sapete le galassie le galassie sono un numero infinito perché dice guardate quelle che abbiamo numerato noi sono 74 miliardi di galassie 74 miliardi di galassie ma mi dico era ferma tre galassie che com'è la storia e dopo ci ha fatto vedere un bellissimo filmato un filmato che consiste nella penetrazione di una specie di di telecamera se vogliamo lanciata nello spazio e si continua ad andare avanti si vede in gruppo delle stelle prossimo avanti in altro gruppo delle stelle prossimo avanti prima ne vedi a certa dimensione poco piccole poco piccole a un certo momento vedi quasi niente e allora è cominciato a dire ecco dal quasi niente si potrebbe incominciare come abbiamo visto detto perché lì e comincia un'altra serie di roba esodo il sto passo allora in questa trasmissione credo di aver detto che quando io ero piccolo e guardavo le stelle pensavo sempre che ci fosse alla fine un muro con su scritto fine perché non è possibile andare avanti e quella sera lì è successa una cosa del genere è veramente è stata una conferenza stupefacente una conferenza però che ha messo in dubbio un po' la mia fede e quando e quando ha incominciato a parlare che da una stella di una galassia per arrivare all'altra stella della galassia si parla di miliardi di anni luce uno rimane un po' perplesso ma noi altri che se anche i piccolini che di fronte a questa massa miriade di galassie siamo più grandi di un batterio visto il microscopio elettronico nel più grande ingrandimento e noi siamo più piccoli di quella roba lì e allora ho detto ma sarà proprio così ma io mi sono consolato in un modo strano ma voglio dirvelo ho pensato che probabilmente questa palla di luce che è data da tutte queste galassie non sia quella la divinità che non sia questa energia che si gira nel mondo che si trasforma che sia quella forse la divinità e che noi e che noi e che noi non so che noi io sono uscito da questa conferenza pensando senti Carlo vado allo Stato a diventare matto lente per buon quel che è questo è stato il risultato di questa bellissima conferenza sulle galassie mi ha messo in crisi religiosa vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto